La ricerca biomolecolare dell'Unical approda anche su Cell, una delle più prestigiose riviste internazionali dell'e-settore. Ad ottenere questo risultato sono stati i ricercatori Maria Francesca Scalise, Michele Galluccio e Cesare Indiveri, direttori del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra. Frutto dell'integrazione fra genetica, biochimica, biologia molecolare e bioinformatica, la ricerca svolta in collaborazione con gruppi di tutto il mondo, coordinati dalla professoressa Gaia Novarino dell'Institute of Science and Technology di Vienna, rappresenta un grande passo in avanti nel complesso scenario dei disturbi dello spettro autistico, comunemente noti come autismo. Nei laboratori dell'Unical sono stati rivelati difetti molecolari causati da due mutazioni scoperte dalla professoressa Novarino che alterano l'apporto di alcuni aminoacidi al cervello, con conseguente manifestazione dell'ASD. Tale risultato apre la strada a nuovi studi che in futuro non lontano potrebbero migliorare le terapie per i pazienti affetti da disturbi dello spettro autistico. La ricerca svolta presso il Laboratorio di Biochimica e Biotecnologie Molecolari dell'Unical è stata finanziata dal progetto MIURPON nell'ambito del Programmo Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013.